Ciao ragazze, oggi video giveaway, come avevo promesso ne avevo uno in arrivo prestissimo e infatti eccolo qua, il premio è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto e cioè questa è la palette 120 colori BH Cosmetics ve la faccio vedere dall'interno anche se so che ormai tutte conoscerete questa palette perché è famosissima, ecco qua i colori e poi si apre e sotto ci sono tutte le altre tonalità come potete vedere appunto sono 120 ombretti quindi il range di colorazioni è vastissimo spero non dia troppo fastidio il riflesso delle luce appunto il range di colorazioni è vastissimo, i colori sono da matt a shimmer a setting quindi insomma potete veramente sbizzarrirvi e realizzare tutti i tutorial di youtube credo con questa palette perché appunto veramente i colori sono tantissimi quindi cosa fare per vincere questa meravigliosa palette ah tra l'altro mi stavo dimenticando di dirvi che questa che vi ho fatto vedere è tutta segnata è usata perché è la mia, voi chiaramente ne riceverete una nuova di zecca però appunto è uguale, identica come al solito partecipare al giveaway è semplicissimo vi basta iscrivervi al mio canale il tastino sarà qui sopra da qualche parte e al mio secondo canale il link lo trovate nel box informazioni ormai lo sapete già tutte tutti i commenti che troverò sotto questo video parteciperanno poi all'estrazione finale del premio della palette e niente ragazze vi auguro buona fortuna a prestissimo con un nuovo video un bacione ciao